musica 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 what is going on guys it's your boy i'm back with the last force remastered che succede sono tornato con the last force remastered questo qui è dove siamo rimasti questa è part 6 quindi museo oh qua c'è flicker che mi stanno addosso vediamo cioè è incredibile quindi oh my god vediamo come faccio uscirne vivo qua oh mio dio grazie 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 Grazie. Ah, veni qui. Quanti sono. Alla prossima. Ok. Mi sa che sono finiti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Come faccio? Come faccio uscire da qui? Bravo. È più complicato qui, eh? Che cosa c'è qui? Già, mi sono perso. Mi serve questa... Questo qua. Come faccio uscire da qui. Come faccio uscire da qui. Ok. Andiamo su o giù? Come faccio uscire da qui. 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 Ogni giù. Ogni giù. Ehi. 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 Dov'è? Qua Qua si lavora con le mani qui Ok No Dov'è? Come on Come on No No way, bro Dov'è? Dov'è? Lasci la scuola! Porca vacca, Giorgia! come on ma quanti sono qui oh my god dai recuperi devo recuperare qui come on dude break a tea pilota pila qua è un disastro Tess tutto a posto? solo un po' di fiatone di qua arriveremo su te sono quasi tu piccola tutto bene? che intendi per bene? ma respiri ancora? i rantoli di paura valgono? si valgono anche quelli ok allora sto bene dove andremo adesso? ma è la strada è lunga come andare di là? ecco è quello l'edificio wow come facciamo arrivare? ok adesso proviamo a passare di qua ok fai attenzione a dove metti i piedi sarà un po' beh è tutto come te lo aspettavi? non ho ancora un verdetto certo che la vista è spettacolare andiamo di qua ehi sbrighiamoci questo è uno dei belli giochi che esistono ci siamo quasi uno dei belli non distrarti si signora si signora è dietro l'angolo forza proseguiamo ragazzina proseguiamo e dove stiamo andando adesso? bella domanda una bella domanda una bella domanda ok mi sa che devo metterlo qua sotto ok ok io ci siamo ecco ci siamo ci siamo quasi Tess per la cronaca per la cronaca non so nuotare guarda sembra bassa sul lato destro seguimi sono felice che Merlin ti abbia ingaggiato che intendi? sì so che ti avete pagato per questo ma appunto avrei lo stesso ammazzato sì tutto sono tutti allagati sono tutti allagati ok chi siamo? no 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 sono tutti morti e ora che facciamo? che stai facendo Tess? magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare fino a che punto dobbiamo arrivare fino a dove serve arrivare dov'è il loro laboratorio? non l'ha mai detto so solo che si trova da qualche parte a Ovest che ci facciamo qui? questo non è... da noi che ne sai di noi? dimmi so che sei meglio di tutto questo ah sì? sai una cosa? siamo persone di merda Joel e da molto tempo ormai no, siamo sopravvissuti stavolta possiamo... è finita Tess! ci abbiamo provato ora andiamo a casa no io... non vado da nessuna parte questa è la mia ultima tappa cosa? la fortuna doveva finire prima o poi che cavolo stai... no no! non toccarmi oh cristo è infetta oh oh Joel fammi vedere non volevo fammi vedere oh cristo oh ops, giusto? dammi il braccio questo ha tre settimane mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato cazzo questo è tutto vero Joel devi portare la ragazza da Tommy faceva parte di questa squadra saprà dove andare no 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 quella era la tua crociata e io non la porterò avanti sì lo farai senti dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti questa volta è diverso quindi portala da Tommy merda ma cazzo ok ecco mi è avuto sono arrivati sono arrivati io non mi trasformo in uno di quei cosi dai vai dai andiamo posso farci no vai e basta vai via cazzo dai è ora di andarcene mi spiace io non volevo andasse così datti una mossa adesso lo giocheremo lo giocheremo coprire le spalle coprire le spalle coprire le spalle oh my oh my oh my ma che cazzo non posso credere che l'abbiamo fatto basta l'abbiamo lasciata morire basta stammi vicino dobbiamo muoverci oh cavolo adesso cambia no no neanche io sono zero però dove andiamo adesso prima di qua o di là veniamo di qua andiamo di sopra da lì forse potrà uscire usciamo di oh my goodness che basta per uscire per uscire oh my god che già ricevuto tu abbandon no per uscire passiamo di qua passiamo di qua passiamo di qua dai che cos'è mi servono saranno qui molto presto let's go let's go oh my god dobbiamo saltare let's go ok ho questo adesso ci siamo oh my god sono già qui sono già qui provo io guardo da questa parte tu guarda nel corridoio dove sei guarda chi cazzo luci non devono scappare peccati coprite le uscite giù la testa got you fatti sotto dai fatti sotto no ah come on come on come on a Ok E' diventato difficile Diventato difficile Adesso andiamo un po' avanti Eccolo No Prendilo E' down Uno è giù Dove sono gli altri? Prendete le scale Li faremo uscire La terra Let's go Andiamo Ma come facciamo? Oh my goodness Qua è impossibile Dai vieni Lasciamo Dobbiamo passare dal salone Sta giù Non so quanti altri ce ne siano Ce ne sono troppi Ce ne sono troppi qui Oh my goodness Qua sono troppi Oh Finita munizione Medizione Come è? Dove è? Come è? Come è? Come è? Damn I got you bro Uh 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 Seriously? Mi vuoi sparare? Vatti sotto E quindi? Quanti sono Ce n'è? Andiamo Ci saranno C'è anche dei altri Però eh Oh no Oh no Quanti sono Mi ha preso Mi ha preso Soldato a terra Ah Soldato a terra Ok Ok Opla No Ancora Ancora vivo Ancora vivo Oh my god Mi sa che sono finiti Li ho ucciso tutti Ah Mi devo Mi devo curare All right Let's go Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo fatto No Siamo entrati Da qui Credo Non era qui Che siamo entrati Stai giù Stai giù Oh ma Ci servono Oh ma Stai giù Stai giù Nessun bersaglio Ripeto Nessun bersaglio C'è un sottile Ricevuto Tieni la posizione A te Ce n'è un altro Lì Ricevuto Mantengo la posizione Come fai a respirare In mezzo a questa roba Non ti stavo mettendo Li hai visti No Il posto è vuoto Io non ho visto niente Controllo questa zona Guarda qua giù Vagabondo Vagabondo A chi A me Stronzo Vagabondo Adesso ti prendi Pugno Infatti Se gli fai del male Sei un uomo morto Ok No Vagabondo Camina Come Ok Vagabondo Asi Lo pagarei tu Adesso Dove sei finito Dove Fatti sotto Fatti sotto Vieni qui Andiamo Non è ancora finita Dove che andiamo Credo qua Questa parte No 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 Devevo andare All'altra parte Wow Oh oh Non c'è più neanche strada Non c'è più neanche strada No No Siamo messo male Adesso Siamo messo molto male Dove andiamo Dove andiamo Dove andiamo passare tramite qui Secondo me Dove andiamo passare tramite qui Adesso Che cosa devo fare Che cosa devo fare Quindi Qua come faccio a uscire Devo andare sotto No Qua non si passa Niente No No Devo tornare indietro Provo a passare di qua Alla prima Alla prima I got this Ellie Sto bene Ah Deve trovare Deve trovare qualcosa qui Ok Ok Ho visto una Cos'è Una lada Cos'è Prendiamo questa scala E allora Come faccio No Prendo questo qua Qua non si vede niente Vai Sale Salta su Davvero Elle Ok C'è la Ok Andiamo Dovamo prendere le scale Credo Oh finalmente Siamo uscite nella luce Wow E diventa ancora più difficile Con questo gioco Ancora più difficile Ehi senti Riguardo a te Non ce la fa più Ascolta ecco come funziona Tu non parli più di Tess Mai più Anzi facciamo che non parliamo più delle nostre storie E secondo Non parlare a nessuno della tua condizione Pensaranno che sei pazza Infine tu fai Quello che dico Quando lo dico È tutto chiaro? Ok Ripeti? È chiaro Faccio quello che dici Bene C'è una città Qualche miglia a nord di qui Lì c'è uno che mi deve dei favori È possibile che ci trovi un'auto Ok Dai andiamo E andiamo Sì faremo prima da questa parte Accidenti Cosa? Niente Solo che Non ho mai visto niente del genere Ecco Parli del bosco? Sì Non ho mai camminato in un bosco È fico Bello bosco Perché non mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado Non ti avrebbe lasciato con noi Magari ora sta meglio Ehm Dove passiamo? Vorrei deluderti Ma i tuoi amici Non hanno mai avuto Molte speranze di sopravvivere È più forte di quel che pensi Non importa Dubito potrebbe riportarci in città Tutti interi Fidati Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione Ah È difficile qua È difficile Ok Ci siamo Eh merda Ci siamo Merda Dobbiamo trovare Dobbiamo scalarla Un'altra soluzione Dobbiamo aggirarla Eh se lo spariamo non funziona No Niente da fare Che cos'è? Tele luccio Farfalla? Beh Intendo luccele vere Sì Sì lì ho viste Scusa Per un attimo Mi ero distratta Un'altra soluzione Ok Troveremo una soluzione qui Ok 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 Oh C'è già Lo portiamo Dove lo mettiamo qui? Dove lo mettiamo qui? Appoggio qui Devo appoggiarlo a qualche parte qui Ok Ok E' ok E' ok Mo' Bene L'ho messo proprio Ma dai Ma dai Proprio Un posto sbagliato ho messo Non ci credo Perché mi segui? Rimani là Io metterei qua Guarda No no Lo lascerei qui Ok Qui è libera Ok ho visto una Una bella Una bella arma Questa è forte Questa si che è potenzialmente corpo a corpo Questa si che è forte Tolliti L'unico posto è qui E' quello Qui si è sicuro Ok Andiamo Sei tu Bill? Dove vi incontrate? Eh? Che bella Non sei mai stato qui E' vero? So che vive qui Ma No non c'era mai stato Una persona E quel fumo può essere lui? Non ce ne abbiamo bisogno Cos'è? Dobbiamo Andiamo a controllare Dobbiamo saltare Andiamo Dai vieni giù Dove sei finito? Ok Qui Non so se troverò qualcosa Lì Non credo Quaggiù Mi sta attento E' un vessato Oh Ci sono ancora Ci sono ancora questa roba qui Vedi Adesso Vedi se trovo qualcosa in questa roba No Niente da fare No Proviamo qui Cerco di trovare qualche Ammunizione Allora Devo preparare Qualche armi Tutto ok? Cerco di imparare a fischiare Vai a fischiare Tu non sai fischiare Qui non c'è niente Ok Ho alcuni fischiare Altre Altre Ho alcuni proiettili Tutto qui Cosa c'è qui? Niente Cos'è? Nomi 7 Non mi serve Nesta cosa qui Ok Andremo Mi sa che Devo costruire Non credo Niente Niente da costruire Andiamo Controlliamo anche di qua C'è una scalina sotto qua Qui dentro Guarda Sta indietro Oh 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 My God Questa me la prendo io Buono Gia Di Qui 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 Grazie a tutti.